Emozionante e significativa la rievocazione storica del processo e dell'esecuzione dei Fratelli Bandiera organizzata a Rurito dalla locale Proloco, ultimo appuntamento di un cartellone di iniziative dedicate alle due importanti figure del visorgimento italiano. Il corteo storico, partito da piazza San Nicola di Motta, si è snodato per le vie del paese fino alla piazza intitolata I Due Patrioti, dove il 25 luglio 1844 vennero fucilati dall'esercito Borbonico insieme ad altri cinque compagni. La marcia silenziosa accompagnata da figuranti vestiti con abiti d'epoca e dal suono cupo e martellante dei tamburi ha sottolineato gli ultimi istanti di vita dei Fratelli Veneziani, ricostruita anche parte del processo, con la ringa dell'Avvocato Cesare Marini, uno dei tre difensori d'ufficio assegnati dai cospiratori dal Tribunale Militare, e l'ultimo saluto di Anna Marsic, madre dei Fratelli Bandiera, giunta a Cosenza in incognito per vedere per l'ultima volta i figli. D'effetto anche il discorso di Attilio Bandiera, che rivolgendosi ai propri compagni li ha consolati rassicurandoli sul fatto che il loro martirio sarebbe stato utile più di ogni altra cosa all'unità d'Italia. Al termine del corteo, dopo l'esecuzione dell'ino di Mameli, la manifestazione è proseguita con uno spettacolo delle allieve delle scuole di danza di Rovito e con un concerto dei Sabatum Quartet, da Cosenza per la Cineus 24.